buonasera e ben ritrovati con il telegiornale nella lingua dei segni mal tempo scuole di ogni ordine grado parchi e giardini pubblici e cimiteri chiusi su tutta l'isola nella giornata di domani sabato a fuorio e casa micciola chiusi anche gli impianti sportivi a causa delle grandi piogge cadute copiose sull'isola d'ischia si è verificato uno smottamento a succhivo diverse le automobili danneggiate dal fiume di acqua e terriccio non si segnalano per il momento danni a persone gravi danni provocati al testaccio in via regina elena infatti un grosso tubo per la raccolta delle acque meteoriche si è rotto a causa della forte spinta dell'acqua piovana il sindaco di barano ha ordinato lo sgombero dei locali interessati disposto l'allontanamento obbligatorio di residenti e occupanti della zona di montevezzi ad ischia i residenti e occupanti troveranno presso il palazzetto taglia la tela indicazioni per le strutture individuate per ospitarli considerato il quadro meteo generale la protezione civile regionale ha prorogato e innalzato l'allerta meteo già in vigore a partire dalla mezzanotte si passa a livello arancione grazie per averci seguito buona serata